Venerdì 5 ottobre alle ore 17.30 nella Sala delle Conferenze del Comune di Battipaglia verrà svolta la presentazione del libro di Vittorio Salemme dal titolo Democristiani a Salerno, casa editrice, Gaia. Ne discuteranno con l'autore Gerardo Bianco, già Ministro della Repubblica e deputato al Parlamento. Tino Iannuzzi, già deputato al Parlamento. Enrico Giovini, avvocato, già sindaco di Battipaglia. Antonio Manzo, direttore del quotidiano La Città. Coordina Giuseppe Blasi, giornalista Rai. Grazie a tutti.